buongiorno a tutti belli e brutti un bacione a tutti buon mercoledì a tutti notiziette oggi notiziette notiziette che poi saranno sarà il solito il solito cazzaro che adesso finita la pantomima felipe anderson che adesso ne parliamo e ne parliamo ancora ancora oggi che finiamo questo discorso poi andiamo sull'altro sull'altro che adesso è venuto fuori un altro nome è perché quando finiscono di parlare di un nome e incomincia venire fuori l'altro ma io quando avevo fatto il primo video di felipe anderson e non so magari quelli che mi che mi seguono che mi seguono da tanto si ricorderanno che dicevo che a me fa strano fa strano che la juventus vada a trattare con la politica che che ha che ha cominciato ad adottare adesso e con da immettere tre ogni anno tre giocatori della next gen in prima squadra da puntare sui giovani da poi anche un'altra cosa dicono che quel che giuntoli che giuntoli ha il il mandato da elca di non trattare più con nessuna squadra italiana vuoi prendere i giocatori te li prendi all'estero di non trattare più di non fare più 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 plus valenze con squadre italiane ma qui hanno ragione qui hanno ragione perché gli abbiamo riempito le tasche a tutte le squadre italiane in più alla fine ci hanno solo che rotto i coglioni abbiamo arricchito tutti da sassuolo napoli a roma e e arresto fiorentina poi neanche dire e in più ci siamo solo ci hanno solo sputtanato abbiamo solo avuto problemi con la giustizia nonostante che abbiamo fatto beneficenza tutti e questo e questo è una è una cosa un sassolino che mi tiro via dalla scarpa bene bravo è il cam bravo guardate questo questi qui non saranno all'altezza del del non sarà all'altezza di gianni agnelli questa ma sta prendendo delle strade giuste giuste sono contento perché non trattare più con squadre italiane anche se a me dispiace per quel cop maes poi torniamo a a felipe anderson è perché attenzione è collegato con con altre due cose è molta attenzione non trattare con squadre italiane non dare più soldi alle squadre italiane che si inculino perché noi abbiamo sostenuto il calcio italiano per anni dando soldi alle squadre italiane e adesso che vadano a fare in culo cominciando dal ciassuolo per passare al napoli di della merdis lì che abbiamo dato 90 90 per i guai andando proseguendo per la roma che gli abbiamo dato 40 milioni per pianici andando la fiorentina che gli abbiamo dato 200 milioni tra vlaovic chiesa i quadrati i bernardeschi no e e e compagnia cantante va bene così bravo è il cam bravo chiudere i rubinetti prima di tutto qua in italia poi stipendi abbassati 34 milioni come fatto il mila perfetto politica giusta e prendere un giocatore in base a quanto vale non sperperare come ha fatto il matto di prima il visionario maledetto di quello del trio merda lì che dato il totale anche quello ci ha distrutti sia sia abbiamo imboccato una strada giusta perfetta e io penso che giuntoli farà molto bene farà molto bene perché vi lo ve lo dito ve lo ripeto per l'ennesima volta a fine stagione sarà un ripulisse a cominciare dalla dal fenomeno in palchina che cambiaso ha detto sono contento di essere stato di essere stato allenato da lui stato allenato da lui quindi due parole gli sono scappate come per dire come per dire ciao amigos ciao amico bene 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 stiamo imboccando la strada giusta ci vola ci vorrà un po' di tempo ragazzi dovete avere pazienza perché questi qua che sono arrivati a mettere posti conti abbiamo hanno trovato le macerie ragazzi hanno trovato voragini macerie apocalissi hanno trovato in questa juventus erano anni che che sperperavano che che hanno fatto il dio possa si dice da andare dalle mie parti e adesso ci vuole tempo per mettere a posto le cose vedete quante ho quanti rifinanziamenti ha fatto ha fatto el cam ha tirato fuori un miliardo un miliardo un miliardo ha tirato fuori per coprire le merda che ha fatto che ha fatto il cugino e ancora non basta e ancora non basta ci sono ancora milioni da da rifinanziare da rifinanziare un po' alla volta dicono che entro tre anni sarà azzerato tutto anche se cosa gli diceva forse avrà sbagliato un po' con i tempi li arriva bene aveva detto entro il prossimo anno questi qui hanno detto entro tre anni comunque politica milan politica corretta ma è giusto così ragazzi poi ormai sei sotto la lente di ingrandimento poi che a te ti controllino e a certi non fallo un cazzo quello è un altro discorso che a quelli là arriviamo adesso è facciamo un video totale oggi a quelli là arriviamo adesso anche perché li prendo per il culo oggi li prendo per il culo questo felipe anderson che a me pareva strano ritorniamo su di lui che 31 anni me faceva strano poi mi sono lasciato anch'io a salire da quest'onda felipe anderson felipe anderson anche se io non è che e cavalcavo mondo molto l'onda che arrivava questo qua sapete le mie due notizie sono quelle turam e questa storia di zidane che vedremo come andrà a finire vedremo dopo la cosa di coppa italia come mi è stato detto non lo so se due tre giorni dopo verrà chiaro verranno chiarita tante cose ma anche anche non solo sull'allenatore anche su altre cose di quello che mi hanno detto e dopo la semifinale di coppa italia che si vinca che si perda forza juve intermerda tra parenti verranno chiarita un po un po di cose quando se ne parla troppo di una cosa avete visto che fine ha fatto felipe anderson adesso sentivo il sergio che ha detto che la juventus da un suo amico non ha mai trattato felipe anderson quello che mi faceva strano 31 anni sto qua che poi io credo che sotto sotto la juventus l'abbiamo andato che fare in culo poi sapete com'è siccome si sono presi il vaffanculo cosa dicono è ma lo sapete io voglio tornare nella mia patria perché mi manca odio quello che quello che hanno detto anche vi ricordate tevez e mi manca l'argentina mi manca l'argentina poi dove è andato a svernare in cina no quell'altro un altro argentino di maria di maria o voglio tornare lì al san lorenzo dove è andato svernare al benfica sono falsi sono tutti falsi sono tutti dei mercenari non sono ci sono più giocatori di una volta dovete rendervi conto questo e attenzione perché siccome se ne parla tanto sapete anche di cosa di cosa se ne parla tanto adesso no che per diciamo 8 9 su 10 quello che arriverà ad allenare la juventus chi sarà chi sarà secondo tanti chi sarà tiago motta attenzione quello quello che vi dico che a me tiago motta non risulta né da parte mia né da parte di qualcun altro che batte su un coro un altro allenatore poi se questo arriverà quando se ne parla troppo di una cosa non succede io ve l'ho detto poi poi se verrà se verrà mi raccomando intanto campanellina poi pollicione mi raccomando pollicione ma di sbranga quando se ne parla tanto di una cosa alla fine alla juvento non succede quante volte è successo questa cosa qua voi siete convinti di tiago motta siete mesi che ogni giorno le nominate io sono convinto di un'altra cosa un mio amico è convinto di un'altra vedremo manca poco è manca poco e poi è venuta fuori adesso questo nome martial prima è stato è stato accostato ai prescritti e dico vabbè loro parametri zero quelle robe la dico adesso l'hanno cominciato ad accostare la juventus ovviamente è finita la pantomima a philippe anderson adesso incomincia la pantomima martial a parte che a quello lì a una cartella clinica da paura da una cartella clinica da paura paura da una cartella clinica agghiaggiante quindi poi è già vecchio quindi ve lo dico già adesso la juventus martial non lo prenderà quindi lasciate perdere quelli che dicono martial 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 questo volevo dire di come come primo per farvi un piccolo riassuntino andando sulla campion lì ragazzi e non ho broccata una devo dire la verità sulla campion lì non ho broccata una io pensavo atletico madrid ma ho prescritti veramente siete usciti con l'atletico madrid più scarso degli ultimi vent'anni non dico 30 perché diciamo che l'atletico da quando è venuto a simeone che hanno cominciato a ricostruire sarà una quindicina ventina d'anni che naviga naviga ad alti livelli comunque siete usciti con l'atletico madrid più scarso della storia vi avevo detto io morata morata ma avete visto che gol si è mangiato morata davanti alla porta se c'ero se fossi io l'allenatore che uno si mangia un gol così con me non gioca più con me non gioca più è e voi volete morata la juventus a parte che ha 30 anni passati anche quello qualcuno spinge ancora su morata non mi innamorata ragazzi basta e basta cosa la terza volta che morata sarà anche un bravo ragazzo juventino ma basta ragazzi bisogna anche 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 cambiare registro è insomma e insomma è un atletico madrid io non so come fai poi far prendere quattro gol dal borussia borussia dortmund questo borussia dortmund che in difesa è un colabrodo in attacco sì c'hanno ma è perforabilissimo questo 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 borussia dortmund a parte che l'atletico madrid sia mangiato la qualificazione l'andata però prendere quattro gol dal borussia e penso che vi brucia è interini vi brucia tutte le vostre malefatte prima o poi verranno svelate tutte le vostre malefatte vengono tutte a galla dio non sei furlan se non tu paghi in cuo tu paghi domani diciamo dalle nostre parti e sbranchete quando vedo il adesso il coso il l'atletico di madrid che esce col borussia dortmund e peggio e godo ancora della vostra uscita godo ancora della vostra uscita godo godo e poi c'è quell'altra partita che mi ha stupito lì lì devo dire che il barcelona che il barcelona secondo me è tutta colpa sua del barcelona c'è uscito perché in undici se erano loro hanno subito talmente un contracolpo dall'espulsione del tipo lì hanno subito un contracolpo che quando dopo i giochi in undici sai che l'altra squadra attacca metti tre quattro pullman davanti alla porta giocatela così a sto punto qua no che cazzo continui a cercare di attaccare sei in vantaggio di due gol di due gol sei in vantaggio non di uno ti fai subito ora potevi se chiudevi il primo tempo sull'1 a 0 ti mettevi tutto lì sull'1 a 0 magari potevi anche svangarla no che cazzo vai giocartela così in quella mania ma io ho visto quel cansello ma hanno fatto bene a mandarlo via anche guardiola se l'ha mandato via vuol dire che un motivo c'è questo cansello non può giocare in difesa cansello sarebbe da metterlo magari in un 4 3 3 come non lo so ma neanche in un 4 3 4 2 3 1 metterlo esterno alto e difendere metti qualcuno che non sa difendere quello là è molto bravo a spingere ma è in difesa è un scarsone quello è uno scarsone e purtroppo a me dispiace per xavi perché perché volevo che magari lasciasse barcelona con magari c'è il barcelona è questo ragazzi il barcelona per me se l'è mangiata il barcelona ieri poi in 11 contro 10 hanno fatto hanno fatto festa non me l'aspettavo non me l'aspettavo e poi tenevo più per barcelona perché il pari san germain a me sta sul cazzo per quella quella il nero lì quello quello che che ha il pari san germain lì quel schifoso lì lì che va che è nato che amico di di ceferin la io il psg non posso non posso vederli quella quella squadra lì di falliti la che hanno messo tanti di quei soldi non riescono neanche andare non so neanche quanti soldi hanno immesso per cercare di vincere questa champion qua e non la vinceranno neanche quest'anno perché quegli altri due 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 sono troppo forti quindi sono andati in finale in semifinale a buco di culo adesso vedremo la prima semifinale sarà borussia dortmund psg city fa borussia ovviamente e questa sera ci vediamo il ritorno di vedremo vedremo questo manchester city real madrid sarà molto 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 interessante io credo che passi il city adesso l'ho detta per passerare a madrid vedrete vedrete perché non ho non ne ho imbroccata una è in centro in campionato le imbrocco tutte però in centro non imbrocco una è proprio noi noi con le cempio non dico la juventus campionato italiano con la cempio non non c'è niente che vedere questi qua corrono 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 tanta tanta 90 minuti proprio non finiscono mai di corre vediamo il nostro calcio sempre lì a per terra con i crampi a perdere tempo che giocano mezz'ora po ma ma come siamo caduti così in basso noi allora vuol dire che abbiamo proprio allenatori e preparatori atletici atletici di merda perché una squadra non può giocare 30 minuti ragazzi 30 minuti ma è una roba è vergognosa vergognosa comunque vediamo stasera come andrà a finire io godo ancora perché i prescritti sono andati fuori con questo atletico madre che figura di merda che figura di merda è così così ci avete rotto i coglioni e perdevamo le finali no e adesso le avete perso anche voi e vi sta bene come torna tutto indietro e vi tornerò indietro anche su queste storie qui che ne sono fatti i furbetti voi in italia che rubate vi tornerà indietro anche voi queste cose qua ricordatevi che il tempo come dice adani come dice adani padre tempo padre tempo vi arriverà anche a voi arriverà anche per voi un bacione a tutti i belli brutti iscrivetevi al canale la campanellina mi raccomando iscrivetevi al canale di michelone mi raccomando mi raccomando ciao ragazzi fatti bravi è fatti bravi